Senni, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, simili e invisibili. Grazie. 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 Grazie a te, Padre, portiamo tutte le famiglie di difficoltà, i bambini e gli anziani, gli ammalati e gli inferi, e chi ha perso il lavoro e chi non riesce a lavorarlo, perché tutti provano motivi per credere e sperare per gli altri. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scoraggiamento, ma con l'aiuto della sua grazia e all'imagine di Maria mettiamo tutte le nostre forze al servizio del progenio di salvezza per noi e per il mondo intero e per noi. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scoraggiamento, ma con l'aiuto della sua grazia e all'imagine di salvezza per noi e per noi. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scoraggiamento, ma con l'aiuto della sua grazia e allo scoraggiamento, ma con l'aiuto della sua grazia e allo scoraggiamento, ma con l'aiuto della sua grazia e allo scoraggiamento. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scoraggiamento. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scoraggiamento. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scoraggiamento. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scoraggiamento. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scoraggio, perché mai scegliamo allo scoraggiamento. Prendiamo, Padre, la nostra dignità con lo suo e la generale, perché mai scegliamo allo scorso, Grazie. 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 il tuo figlio, con la differenza dello spirito, perché viviamo in Cristo come un solo figlio e un solo spirito. Egli faccia gloria, non c'è per il mio carattere, perché possiamo perdere il mio carattere con i suoi figliere, con te e i suoi figliere, con la piaga, la mia vergine e la madre di Dio, con il sangue e il tuo sposo, con i tuoi santi apposso, San Francesco e Santa Maria, tutti i santi, nostri figli, e c'è soli di persone in te. Per questo sacri figlio e il figlio di Gidea, Gidea, donna Padre, pace e il sangue e il sangue e il sangue e il figlio, conferma nella sua tendenza e l'amore, la tua ricerca per me sia messa in la terra, il tuo sangue, il nostro papà Francesco, dell'esercizio, il nostro pezzo e con i tuoi figli, il nostro divino, il nostro pezzo e il suo padre, il mio sangue e il tuo figlio, e il suo progetto ai tuoi predetti. Ascolta la campagna di questa famiglia, che è come mandata tua presenza, e le risorse come i tuoi figli per fare i miei suoi figli, tutti i tuoi figli e i tuoi figli di sitenze, accogliti nel tuo regno ai nostri esattenti a tutti e tutti i figli di pace e con te hanno lasciato il suo mondo oggi anche a noi il tuo pazzo si viene a poter sempre per la tua gloria per mezzo del quale il tuo Dio donna il mondo di me per mezzo in Cristo a te Dio Padre e ogni potente per un'unità per uno spirito per una persona per tutti i secoli e gli secoli che ci hanno la parola del Sant'Altore che torna al Giovedio l'insegnamento a tutti i figli di pace Padre e gli secoli che si è santificato con il tuo ruolo e in Italia sia fatta la tua volta come il cielo e il suo interno da Giovedio e il nostro padre e la nostra parola e la nostra parola e la nostra parola è rimettere la nostra parola di Giovedio e le loro come noi rimettiamo la nostra parola di Giovedio Grazie. 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 Grazie.